Lukaku al Milan, quanto c'è di vero non lo so, però io capisco i tifosi del Milan in questo momento. E' Juventus, Juventus-Cup Miners, Calafiori, Di Lorenzo, insomma uno dice che si muove, dopo c'è Giuntoli, sai che è lui che ha tutto in mano, l'Inter non ne parliamo, Zielischi, Taremi, Rinnovo Lautaro, Rinnovo Barella, Rinnovo Inzaghi, 6 milioni e mezzo, 9 milioni, Parotta Presidente, Doc Trey che dice che dobbiamo aumentare i ricavi e farò diventare ancora più bella quest'Inter, e c'è un'euforia, perché c'è un'euforia ve lo dico da tifoso interista, il Napoli non ne parliamo, Conte, adesso basteranno i primi due o tre innesti di Conte, ma abbiamo Conte, abbiamo fiducia in Conte, arriviamo al Milan, arriviamo al Milan, ma orecchie abbassate, tu vedi i tifosi, tutti i miei amici tifosi da Bar dello Sport, diciamo quelli che incontro per strada, non parliamo dei social perché li vedo anch'io, i social li sento anch'io, vedo i video, signori, il tifoso milanista in questo momento, quello che incontro io per strada, ecco che incontro per strada e mi dicono, non ne parliamo, non ne voglio neanche parlare, ma per favore, per favore, hanno, secondo me hanno perfettamente ragione, Stiamo parlando di calcio, calcio significa, sappiamo, è lussureggiante, si pagano tanto i giocatori, sono milioni, milioni, questo è il calcio, ci sono le commissioni, sappiamo il calcio moderno può piacere o non piacere, ma quello è, là stai giocando, Io non lo so, Milan, non ho davvero, non ho idea di come funziona il Milan, questa è un'altra, ma io, magari voi sì, magari la maggior parte di gente in Italia, tutti i tifosi milanisti sanno come funziona il Milan, io no, E questo non è un difetto del Milan, è un difetto probabilmente mio, io non ho capito, cioè se il Milan, chi la fa, la squadra del Milan, cioè l'allenatore, chi l'ha preso, chi è stato, ovviamente cardinale, alla fine dirà sì, dirà no, però qualcuno gliel'ha portato, gliel'ha apparecchiato il nome di Fonseca, se è Fonseca, perché anche qui, anche qui, anche qui, tutti i pioli out che conoscevo io, quelli che conoscevo io, tutti i pioli out che conoscevo io, adesso mi dicono tutti la stessa cosa, Beh, ma sai cosa, io il pioli l'ho ritenuto, perché alla fine pioli era arrivato secondo, aveva migliorato i punti rispetto all'anno scorso, cioè sì, due stagioni fa, non solo, in Champions League, scusate, non era andato così male, perché senza il rigore dato al Paris Saint Germain, il Milan passa, e la sconfitta, dice, sconfitta col Borussia, ma si è visto che il Borussia era uno squadrone alla fine, c'è tutte queste cose, dopo, sì, al momento dici pioli out, perché vuoi un upgrade, vuoi migliorare, però se ti arriva Fonseca, tu dici, ma a sto punto, ma io mi tengo quello che già conosce l'ambiente, che già sa come girano le cose, che già ha inserito il Renders, ha inserito l'Oftocic, ha inserito Pulisic specialmente, aspetta di inserire un attimo Ciucu e Eze, no, Fonseca, cioè cambi, cambi allenatore, ma quest'allenatore dopo, io vado a vedere, alla Romana, non è che ha fatto, cioè le posizioni classifiche della Romana, o quinto, sesto, sesto, settimo, insomma, classica, l'è già vallata, con le posizioni lì, quindi non è che proprio stiamo parlando, io non lo capisco, io il Milan, non lo capisco, sto facendo calciomercatone da sogno, calciomercatone sarà, diciamo, la rubrica che seguirà, relativamente seguirà il calciomercato, giochiamo, gioco io, gioco con voi, a fare i direttori sportivi, così, a dire, prendere a quello, quello che si fa in spiaggia, quando sei in spiaggia e parli con l'amico, cosa gli dici, no, io prenderei a quello a 30 milioni, gli dai 40 milioni, siamo tutti direttori sportivi, ecco, faccio finta di essere direttore sportivo di tutte le squadre, e faccio le squadre da sogno, andatela a vedere, è bellino, è carino, è fatto bene, c'è tutta la grafica, eccetera, eccetera, è partito proprio ieri, però c'è una cosa, e ho visto anche la grafica per il Milan, nelle varie trasmissioni televisive, non c'è un italiano, c'è nel Milan, non c'è un italiano, ci sarebbe solo Calabria, forse, ma anche nel mio calcio da sogno, calciomercato da sogno, a Calabria non c'è o c'è Merson Royale, ma non c'è un giocatore italiano, è una squadra, quella del Milan, e io non la capisco, ma la società stessa, che per me è assolutamente, io, se mi dite alla Juventus, chi è che fa il mercato, chi è che si muove, che prende il telefono, che parla con i colleghiuntoli, a questo punto, ovviamente, a tutti i collaboratori, l'Inter, l'Inter è che, ausilio con Marotta, alla fine Marotta, che è un giocatore, non giocatore, situazione, come lo prendiamo, non lo prendiamo, penso che sia lui, al Napoli, Manna dei Laurentiis, diciamo le cose non me stanno, alla fine è da Laurentiis che dice il giocatore, però Manna comincia a fare il suo lavoro, i suoi contatti, dopo parla col Presidente, eccetera, eccetera, il Milan, io non lo so, credo Moncada, o Ibrahimović, o Forlani, non lo so, non lo so, alla fine sarà cardinale a decidere, penso, penso che sarà, è ovvio che deve essere cardinale, però il prima, la prima scelta, credo che sia Moncada, ma ripeto, credo, penso, forse, quando, perché non lo so, cioè io non ho questa immagine, ma è mia, cioè magari tutti gli altri ce l'hanno, quindi è un difetto, un problema, una situazione mia, di non capire come funziona il Milan, ma questo non vuol dire che il Milan non funziona, il Milan funzionerà sicuramente bene, però gli altri nomi che si fanno, ripeto, io vedo un po' più di euforia dalla parte giuventina, in questo momento giuventini, calaficori, coppominers, Di Lorenzo, adesso vedrete che arriveranno sicuramente qualche nome, dall'altra parte Conte, è ovvio che Conte è lì, è bello fresco, la Roma sta partendo anche lei, un po' in sordina, non riesco a capire, a seguire, il nuovo direttore deve fare i suoi, ovviamente deve studiare tutte le sue situazioni, le pendenze, eccetera, eccetera, la Roma è un po' indietro, secondo me, ma anche qui, secondo me, magari invece è avanti agli altri, poi c'è l'Inter, ma l'Inter mi sembra strutturata, l'Inter mi sembra che le idee sono abbastanza chiare, dopo se c'è la possibilità c'è la possibilità, è passata all'interno di un passaggio di proprietà, questo passaggio di proprietà che era temutissimo da tutti, invece con Occhettri noi, io da tifoso interista ve lo dico, non è che c'è euforia, proprio euforica, la tifoseria interista in questo momento ha l'euforia, dopo domani dicono, tagliamo a destra, tagliamo a sinistra, vendiamo le ruote della macchina, quello gli togliamo, andiamo con la bicicletta, andiamo, può dire, può inserire tutto, ovviamente, ma al momento l'idea è che non dicano questo, secondo me arriverà qualcosa tipo sponsor su sponsor, si punterà molto sul brand, e quindi per farlo devi... c'è euforia, c'è molta euforia da parte interista, da parte milanista io non ho incontrato un tifoso uno, uno in giro, tanti, io parlo sempre di calcio in giro, un tifoso che mi abbia del Milan e che mi abbia detto, eh quest'anno si vince lo Scudetto, eh se quest'anno mi piace come stanno andando le cose, attenzione, dopo vince lo Scudetto il Milan, dopo Fonseca arriva, fa il filotto, dieci vittorie iniziali, più le vittorie di Champions League, il Milan che tiene palla, sembra il Barcellona di Guardiola, tutto può succedere, questo sicuramente, però al momento, se devo dire, se devo dire la verità, sono curioso, sono curioso, a me mi ricorda il tempo, i tempi, ve lo dico di Giampaolo, ve lo devo dire, a me mi ricorda quei tempi lì, quell'annata lì, vi ricordate con Giampaolo in panchina, l'inizio a Udine, se non ricordo male, la sconfitta, potrebbe anche essere quella stagione lì, chi lo sa, perché se dovesse perdere, se dovesse un po' rallentare già all'inizio, magari perdi 4-5 punti dalla Juve, dall'Inter, dal Napoli, già a primi 3-4-5 partite, non è che ti aspetta il pubblico del Milan, non è che i milanisti ti aspettano che già non ci avranno più, eh no, eh no, e là incominciano già dentro e dentro, pensate a una cosa del genere, dopo 4 giornate, una squadra a punteggio pieno, vai, il Napoli a punteggio pieno, a 12 punti, a 10 punti, quindi tra il vittorio e un pareggio, la Juventus e l'Inter, e gli mette pure la Roma, se volete, e su quelle 4 partite il Milan ti fa una vittoria, due pareggi e una sconfitta, quindi sarebbe a 5 punti, quindi sarebbe a 7 punti dal primo posto, e a 5 punti dall'Inter, dalla Juventus, e che io uno scenario del genere, io uno scenario del genere, se forse l'Inter te l'aspetta, te l'aspetta, non sai chi che fai, aspetta, vedrai che migliorerà, il Napoli aspetti perché Conte lo sai, che dopo Conte è là, si mangia pure i tavoli, ma deve lui dargli quella forza, e al Milan non lo so se eventualmente aspetterebbero prima di, no, no, o tutto, deve fare tutto, velocemente, ma è una situazione, ditemi la vostra, ditemi la vostra, sono veramente curioso di sapere qual è la percezione vostra, perché questa è solo percezione, la mia, è solo la mia personale percezione, di quello che è il Milan, io non penso che il Milan stia in questo momento brillando in questo calcio mercato, però dopo, vedremo. Detto questo, alla prossima, vi ricordo che c'è calcio mercatone, calcio mercatone da sogno, è carino, è divertente, andatelo a dare un'occhiata e fatemi sapere la vostra. Detto questo, iscrizione, questo è il canale più bello d'Italia, il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, alla prossima, un bel mi piace, ciao ciao.